Questa è la mia nuova sacca, Converse All Star. Io non mi alleno mai senza di lei. Se la volete, comprate Dixan. Per me non c'è niente di più comodo di un marsupio Converse All Star. Io metto sempre tutto qui. Se lo volete, comprate Dixan. La mia nuova borsa Converse All Star è incredibile. Basta tirare una zip e diventa grandissima. Se la volete, comprate Dixan. Sì, la borsa Converse All Star te la regala sola Dixan.